Marzia Malaigia, vicepresidente del Consiglio regionale Marche, vicino alla scuola, ai territori, alla cultura e alla gente. Ecco, una bellissima riunione sull'emergenza terremoto. Ce ne parla la vicepresidente del Consiglio regionale, Marzia Malaigia. Siamo venuti qui e questo è un primo incontro, anche se noi tutti siamo stati impegnati singolarmente nel territorio. In questo incontro abbiamo voluto ascoltare, informare e discutere, confrontarci proprio con la popolazione, perché, come hanno detto anche i miei colleghi, è proprio da qui che si deve ripartire. E' qui che dobbiamo ricominciare ad essere i protagonisti. Noi che eravamo rimasti invece a subire decisioni dall'alto, i centralismi sono senz'altro da superare e dobbiamo riprendere in mano il nostro territorio. Oggi è stato emanato il decreto. La maggioranza ha dato su tutti i media una grande visibilità a questo decreto emanato dal governo. Voi che ne pensate ai decreti? Allora, innanzitutto è una bozza di decreto, per cui chissà quali altre strade prenderà. Noi ci auguriamo che vengano appunto presi, attraverso riunioni e coordinamenti come questo, anche suggerimenti che vengono proprio da chi il territorio lo vive. Quindi è ottimista o pessimista per il futuro della nostra regione, perché la gente ha bisogno anche di un sostegno morale? Allora, ottimista o pessimista? Adesso non è il caso di dirlo. Io sono speranzosa più che altro.